Salve ragazzi, benvenuti alle barzellette del nostro amico Tom. Oggi Tom vi racconterà la barzelletta Pierino e la fidanzata. Pierino si confida con il suo amico Lino e gli dice Sai Lino, mi sono fidanzato. E Lino, sorpreso, ma veramente Pierino? Poi aggiunge, e come si chiama? Sabrina, risponde Pierino. Ed è carina la tua Sabrina? E Pierino risponde, sì, è molto carina. Ed è simpatica? In calza Lino, sempre più curioso. Sì, è molto simpatica, risponde gentilmente Pierino. Poi Lino, pensando egoisticamente a se stesso, aggiunge A proposito, è una gemella questa tua Sabrina? Sì, risponde subito Pierino. Bene, replica Lino e aggiunge, e come fai a non confonderla con l'altra? Beh, Lino, è facile. Suo fratello gemello ha i baffi.